Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte. Benvenuti ad un nuovo appuntamento dei programmi dell'accessorai con Corecom Piemonte. È un piacere avere qui con noi il presidente Alessandro De Cillis, presidente Corecom Piemonte e coordinatore nazionale dei presidenti Corecom. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi. E altrettanto con noi il vicepresidente Gianluca Nargiso, grazie. E a voi oggi vogliamo rivolgere delle domande importanti per i cittadini. Il corecom Piemonte, ma così come i corecom nazionali, si occupano tanto di conciliazioni. Conciliazioni con le compagnie telefoniche, rapporti con gli utenti, servizi a pagamento. Ecco, un settore importante e nevralgico soprattutto in questo periodo. Ecco, come si comporta il corecom in questo ambito e quali sono le funzioni? Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte è organo funzionale dell'Agicom ed è incardinato all'interno del Consiglio regionale. È maggiormente conosciuto il Comitato Regionale per le Comunicazioni per la funzione importante che svolge di servizio di conciliazione tra utenti e compagnie di comunicazione. Questo cosa vuol dire? Che ciascuno utente che ritenga di dover ottenere da una compagnia di comunicazione uno storno in fattura, la restituzione di quello pagato e non dovuto, bene, allora si può rivolgere direttamente al corecom attraverso il portale Conceweb e di lì ottenere un servizio di giustizia amministrativa. Presidente, un bilancio degli ultimi anni? Beh, allora, i servizi informatici, i servizi telefonici diventano sempre di più parte integrante della nostra quotidianità. Il bilancio ha segnato una crescita veramente importante e sensibile. All'inizio del nostro mandato siamo passati da 4 mila conciliazioni l'anno per arrivare a un picco di oltre 10 mila conciliazioni. Siamo arrivati a restituire ai cittadini oltre 3 milioni di euro più tutto quello che viene conteggiato come storno in fattura. Questo cosa vuol dire? Che l'andamento registra una necessità sempre maggiore di servizi di tutela da parte del cittadino nei confronti delle compagnie di comunicazione. Grazie Presidente. Vicepresidente Nargiso, conciliazioni, rapporto con le compagnie a pagamento di cui abbiamo detto, qual è la funzione corecom con riferimento proprio alle conciliazioni e se ci può spiegare cosa avviene di fatto attraverso le conciliazioni? Grazie dottoressa Zuffanti per la domanda. Io sviluppo il discorso introdotto molto bene dal Presidente Decilis. È molto importante questo tavolo di conciliazioni per il cittadino ma anche per le compagnie telefoniche perché favorisce un confronto attraverso questo confronto che risulta positivo in un largo numero di casi. Si arriva a un accordo. Questo accordo consente alla compagnia telefonica di soddisfare in qualche modo le ragioni del proprio cliente e per converso all'utente quello di ottenere senza maggior dispendio di tempo, di denaro, ottenere le proprie ragioni. Quindi questa è l'importanza del tavolo conciliativo. Ricordiamo che il servizio di conciliazione è gratuito pur non essendo un servizio di consulenza. Dal 2021, cioè da quest'anno, serve lo speed per accedere al servizio. Ecco, ci spiega un pochettino come funziona perché il cittadino ci ascolta. Sì, da aprile del 2021 lo speed come il cittadino ben sa attraverso la nota app che ormai quasi tutti hanno installato sul proprio cellulare deve utilizzare questa nuova funzionalità. È semplice e consente semplicemente un maggior grado di sicurezza nell'autenticazione che consente semplicemente l'accesso a questi servizi. L'accesso ai servizi è facile attraverso la piattaforma concilia web con l'utilizzo dello speed dell'identità elettronica si riesce ad entrare e a poter poi presentare la propria stanza. E ricordiamo che è gratuito. Assolutamente. Pur essendo appunto un servizio molto importante. È un servizio importante. Ricordiamo però al cittadino che è vero che è gratuito ma non essendo il corico munente che fornisce consulenza occorre che il cittadino capisca bene le proprie ragioni e se del caso si appoggi a operatori qualificati come possono essere associazioni consumatori o professionisti specializzati in questo settore che ha una sua tecnicalità molto importante da dire. Io vi ringrazio per questa pillola. Grazie Presidente De Cillis e grazie Vice Presidente Nargiso. Alla prossima puntata. La scelta del percorso formativo da intraprendere dopo la terza media è un momento importante che spesso genera dubbi negli adolescenti e nelle loro famiglie e che è giusto affrontare seguendo le proprie inclinazioni personali considerando anche i possibili sbocchi lavorativi. Una scelta possibile è la formazione professionale. I corsi triennali di qualifica permettono di imparare concretamente un mestiere acquisendo conoscenze teoriche e capacità pratiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro senza escludere la possibilità di proseguire gli studi. In Piemonte la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri è un ente storico di formazione professionale. Da 100 anni, nelle sue 11 sedi territoriali, si occupa di orientamento, preparazione e inserimento al lavoro di giovani e adulti. I corsi di qualifica professionale che la Casa di Carità Arti e Mestieri propone sono rivolti a ragazzi e ragazze dai 14 ai 24 anni in possesso del diploma di terza media e sono completamente gratuiti in quanto finanziati dalla regione tramite il Fondo Sociale Europeo. Si svolgono in orario diurno e prevedono lezioni teoriche e lezioni pratiche nei laboratori attrezzati. Il punto forte della formazione professionale della Casa di Carità certificata secondo la norma di qualità ISO 9001 è rappresentato dallo stretto legame con il mondo produttivo e dalle metodologie formative utilizzate, tra cui la simulazione d'impresa. Gli allievi si sperimentano nei diversi ruoli organizzativi presenti in un reale contesto di lavoro e alcuni corsi sono gestiti in alternanza scuola-lavoro secondo il modello duale. Casa di Carità offre percorsi di formazione in tutti i settori elettrico, meccanico, informatico, grafico, amministrativo, alimentare, cura della persona. Vediamo nel dettaglio alcune proposte formative. Frequentando questo corso sarete in grado di realizzare impianti elettrici civili-industriali in particolar modo in ambito residenziale per accendere e spegnere le luci, per alimentare prese, realizzare impianti industriali non solo in logica cablata ma anche in logica programmabile utilizzando appunto relai intelligenti. L'operatore meccanico montaggio e manutenzione costruisce alle macchine utensili tradizionali torni e fresatrice i pezzi li monta insieme al banco e con l'aiuto della pneumatica e dell'elettropneumatica li anima. Il costruttore su macchine utensili tradizionali e controllo numerico costruisce pezzi al tornio e alla fresatrice, appunto tradizionali oppure controllo numerico. Nel percorso trennale si sviluppano le principali lavorazioni di pasticceria, panificazione, produzione di pasta fresca e secca e pizzeria acquisendo le principali tecniche e dando spazio anche alla creatività. Imparerai a gestire un vero e proprio piano di comunicazione in linea con le richieste del mercato e delle aziende sia a livello cartaceo sia a livello digitale. Riuscirai a fare tutto questo con la suite completa di Adobe. L'obiettivo del corso è quello di far acquisire competenze in ambito segretariale ed amministrativo insegnando ai ragazzi la gestione e l'organizzazione di varie situazioni che si presentano in azienda. I miei impareranno la conformazione cranica e la morfologia dei visi per poi passare allo studio pratico sulle testine con l'applicazione dei bigodini e incominceranno lo studio tecnico del colore della permanente e tutta la parte stilistica del taglio. Attraverso questo corso i partecipanti apprenderanno innanzitutto come prendersi cuore dell'aspetto fisico delle persone eseguendo quei trattamenti più basici come manicure, pedicure, epilazione, applicazione dello smalto semipermanente e ricostruzione unghie. Durante il terzo anno il momento centrale della formazione è lo stage di 300 ore presso le aziende del territorio che permette di fare il primo ingresso nel mondo del lavoro e apre la strada a molte opportunità future. Previo superamento dell'esame finale si consegue la qualifica professionale. Con questo titolo è possibile iniziare da subito a lavorare oppure è possibile proseguire gli studi. Presso alcune sedi sono attivi i corsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale. Inoltre è possibile rientrare nel canale dell'istruzione per il conseguimento di un diploma di Stato. Sul sito casadicarita.org si può trovare la sede più comoda e vicina. I docenti della Casa di Carità Arti e Mestieri sono pronti ad accompagnare i ragazzi e le loro famiglie alla scoperta della formazione professionale e ad approfondire i diversi percorsi formativi. Casa di Carità Arti e Mestieri da cento anni continua a formare nuove generazioni. Buongiorno a tutte e tutti. Mi chiamo Marilena Bertini e sono un medico volontario del Comitato Collaborazione Medica AMREF Health Africa. Sono qui per parlarvi di un nostro progetto e di come il CCM, che è nato nel 1968 a Torino per portare il diritto ad avere servizi sanitari in tutte le parti del mondo e quindi abbiamo cominciato a lavorare in Africa subsahariana, nelle zone più remote dove i servizi sanitari sono più scarsi, perché si è unita nel 2020 ad AMREF Health Africa. AMREF Health Africa è la più grande organizzazione sanitaria africana con sede a Nairobi. Perché ci siamo uniti? Perché abbiamo lo stesso modo di vedere la sanità e la sanità nei paesi a basso reddito. Crediamo che sia importante lavorare con le comunità, lavorare con le culture locali, integrandole e migliorandoci reciprocamente, lavorare in rete, pubblico e privato e soprattutto lavorare con i sistemi sanitari presenti in loco, perché solo così, quando il progetto sarà finito, rimarrà una struttura sanitaria capace di offrire servizi. Da circa dieci anni il CCM e anche AMREF hanno cominciato a lavorare in Italia. I nostri obiettivi sono sempre uguali, cioè diffondere la possibilità di accedere ai sistemi sanitari le persone più fragili e più marginali. A Torino abbiamo scelto di lavorare in alcune strutture che danno cibo, vestiti, possibilità di lavarsi, ricerca, abitazione, senza fissa dimora e a migranti irregolari. Queste persone sono coperte dal Sistema Sanitario Nazionale Italiano, che è un ottimo sistema, ma purtroppo hanno delle difficoltà ad accedere ad alcuni servizi, perché hanno barriere burocratiche, linguistiche, culturali. Quindi cerchiamo di facilitare, nei nostri punti di ascolto, queste persone ad avviarsi al Sistema Sanitario Nazionale, adatto per loro, nella loro particolare situazione di salute. Per esempio, a pronto soccorso, quando c'è bisogno, oppure nel medico di medicina generale. Questi ambulatori hanno dovuto sospendere la loro attività quando c'è stato il confinamento, perché le persone non si ragionavano più per andare a cercare quello che serviva loro e allora abbiamo deciso di lavorare in strada. Abbiamo organizzato della distribuzione di materiali igienico-sanitari, misure preventive come mascherine e disinfettante e anche alcuni strumenti igienici per strada, appunto, nei punti in cui queste persone andavano a ritirare i pacchi alimentari. Lavorando per strada abbiamo collaborato con altre organizzazioni come Rainbow For Africa che avevano un camper che forniva servizi sanitari. Lavorando insieme ci siamo accordi che è importante una sinergia per informare e formare e contemporaneamente per offrire servizi a quelli che ne hanno bisogno. Da questa sinergia è nato il progetto Torino Street Care che ha inglobato anche altre organizzazioni molto importanti della città di Torino come l'Ordine dei Medici della provincia di Torino e la Camminare Insieme. Con loro siamo andati a fare tamponi nei dormitori, nelle mense, nelle abitazioni informali in cui i nostri fragili si riunivano più recentemente abbiamo offerto al Sistema Sanitario Nazionale quindi alla ASL di Torino volontari per iniziare le vaccinazioni. Questo perché? Perché pensiamo che le vaccinazioni siano ovviamente l'arma più importante devono essere anche usufruibili dalle persone più marginali quelle che non hanno la tessera sanitaria e che non hanno quindi la possibilità di essere chiamate per essere vaccinate. stiamo cercando di spingere perché la nostra ASL e la nostra regione adottino questi sistemi di vaccinazione anche per i più marginali proprio perché pensiamo che tutti dobbiamo essere vaccinati tutti in tutte le parti del mondo. Per questo cerchiamo volontari per avere sempre più persone che capillarmente possano svolgere questo servizio e aderiamo alla campagna di sensibilizzazione globale un vaccino per il bene dell'Africa per il bene di tutti. Solo vaccinando tutti possiamo pensare di sconfiggere il virus. Grazie. Buongiorno, sono Mauro Valentini Presidente dell'Associazione Provinciale di Biella della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il cancro è la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari in Italia. Ovviamente la pandemia Covid-19 ha fatto passare in secondo ordine tutte le malattie cronico-degenerative fra cui il cancro. Questo è un effetto collaterale negativo di cui si è parlato poco e che in una provincia come quella di Biella è ancora più significativo visto che l'indice di vecchiaia è pari a 276,2. Quindi la normalità è 100. Durante la pandemia sono stati rinviati molti interventi sono state sospese le visite sospesi gli screening il follow-up, cioè i controlli a distanza ci sono stati ritardi nelle terapie. Questo effetto negativo si percuoterà nel prossimo decennio sulla mortalità vanificando i risultati buoni che si sono ottenuti con la prevenzione. Già da lontano 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità posta al centro della sua attenzione della nostra attenzione la buona salute e il mantenimento del benessere. Questo si può ottenere con la diagnosi precoce con la prevenzione e la LILT è impegnata nazionale e quindi anche le associazioni provinciali in questa direzione da ormai 100 anni. Questo fatto, riducendo l'incidenza delle patologie e con esse i costi derivanti dalle terapie, dai ricoveri dalla riabilitazione dall'astenzione del lavoro e dall'invalidità favorirebbe anche la sostenibilità del sistema sanitario nazionale che è stata messa in crisi da tutti i tagli indiscriminati che sono stati effettuati in sanità negli ultimi anni. Il non profit in sanità va a inserirsi fra il sistema pubblico che comprende anche l'accreditato e il sistema privato e avrà sempre più un ruolo fondamentale per quello che ho detto prima nella riduzione dei costi nella riduzione delle liste d'attesa questo ha maggiore importanza per quello che riguarda la qualità e l'efficienza della sanità in Italia. Questo è anche dimostrato dalla Lilt di Viella Nel spazio Lilt durante la pandemia Covid-19 noi siamo stati chiusi solo nel primo lockdown dei tre mesi fra marzo, aprile e maggio 2020 e abbiamo sempre tenuto aperto l'ospice per malati terminali quindi non c'è mai stata sospensione della terapia per questi soggetti abbiamo in questo modo ovviato almeno in parte il disservizio che si era creato a livello ospedaliero per il semplice motivo che tutte le attenzioni come ho detto prima erano concentrate sulla pandemia tenendo conto che nell'attività ambulatoriale nel 2020 c'è stata un'attività solo per nove mesi quindi c'è stata la sospensione di tre mesi come dicevo prima se noi rapportiamo i dati ottenuti nel 2020 rispetto al 2019 rapportandoli su 12 mesi arriviamo a circa 11.000 prestazioni 11.000 accessi quindi il trend in continuo aumento dal 2015 quando siamo entrati in spazio Lilt nella nuova sede ad oggi è sempre stato in crescita grazie per l'attenzione buongiorno buongiorno mi chiamo Maria Paola Zario sono presidente del centro per l'UNESCO di Torino abbiamo fondato il centro per l'UNESCO di Torino nel 1983 quando su richiesta dell'UNESCO che ci fece notare che a Torino non c'era nulla che parlasse ancora di questa organizzazione decidemmo un gruppo di soprattutto educatori docenti universitari di aprire il centro proprio per favorire la conoscenza delle priorità e dei valori dell'UNESCO ai giovani i giovani che popolavano la nostra città in modo massiccio che venivano non solamente dalla regione Piemonte ma che venivano anche da molte altre zone d'Italia questo lo scoprimmo proprio perché volendo naturalmente parlare di diritti dell'uomo di priorità UNESCO nel campo dell'educazione della scienza della cultura così come dice il nostro logo cercammo una sede idonea la prima sede fu proprio il collegio universitario in Audi che ci ospitò per due anni e con i giovani del collegio universitario in Audi facemmo una ricerca proprio su di loro anche perché l'UNESCO ci aveva inviato la coppia di una sua ricerca fotografica sulla condizione dei giovani negli anni 80 noi rifacemmo la stessa operazione a Torino di ricercare su loro stessi qual era la loro identità ne derivò una pubblicazione la prima delle pubblicazioni che noi abbiamo poi sistemato nel catalogo che accompagna tutti i nostri lavori e in questa pubblicazione i giovani allora come oggi chiedevano di essere informati sul mondo internazionale di capire quali erano le prospettive e le possibilità per poter andare all'estero per poter lavorare indipendentemente da barriere nazionali e da barriere locali anche se naturalmente il valore del territorio nazionale locale era per loro e come è tuttora un valore indispensabile e importante nacque quindi una pubblicazione allora chiamata Giovani Ospiti a Torino un'occasione di educazione alla pace proprio perché pace è uno dei grandi valori che l'UNESCO cerca di portare avanti dal 1945 nel motto dell'UNESCO è scritto molto chiaramente poiché le guerre nascono nel cuore degli uomini è nel cuore degli uomini che bisogna innalzare le difese della pace e allora noi abbiamo scelto come centro UNESCO di innalzare le difese della pace degli uomini proprio partendo dai giovani a loro abbiamo dedicato la maggior parte del nostro lavoro offriamo loro di fare tirocini presso di noi tirocini curriculari che servono per acquisire crediti presso l'università presso il Politecnico vengono non solamente dall'università di Torino ma vengono anche da altre università in giro per l'Italia e in giro per il mondo e vengono all'interno di un campus dove noi abbiamo la fortuna di avere la sede dal 1985 un campus che dialoga con le altre organizzazioni presenti a Torino l'Organizzazione Internazionale del Lavoro l'UNICRI che fa ricerca sul crimine organizzato e lo Staff College che porta avanti il problema della formazione proprio dei dipendenti dell'ONU che cosa offriamo ancora ai giovani offriamo ogni anno un percorso formativo su quelle che sono le priorità dell'UNESCO abbiamo appena terminato un percorso dedicato a tutte le scuole del Piemonte intitolato La vita sulla terra che prendeva in considerazione la situazione degli oceani la situazione del clima della salute circolare e del patrimonio che sono parole chiave legate tra di loro e che necessitano di avere un'attenzione da parte dei giovani proprio perché noi siamo sempre più convinti che oggi formare i giovani vuol dire avere un futuro per noi e per loro migliore e davvero uno sviluppo sostenibile come l'Agenda 2030 richiede a piene mani nei suoi 17 obiettivi il nostro sforzo è quello di aprirci a tutti i giovani la nostra è un'associazione quindi i giovani si possono associare associandosi ci aiutano a lavorare con i loro coetanei ma anche soprattutto imparare a diventare degli adulti di domani sul quale avere veramente qualche cosa da portare avanti in modo costruttivo e in modo collaborativo insieme grazie e vi aspettiamo buongiorno buongiorno sono Dario Bonsignorio di Uni l'entitaliano di normazione un'associazione senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea che ormai da 100 anni studia e pubblica le norme tecniche e le prassi di riferimento che sono documenti di applicazione volontaria che spiegano come fare bene le cose cioè con più qualità più sicurezza più rispetto per l'ambiente questi documenti hanno recentemente dimostrato tutta la loro valenza sociale specialmente in questo periodo particolarmente complicato che stiamo vivendo e di questo parliamo con Elena Mocchio responsabile innovazione e sviluppo di Uni buongiorno e bentrovati perché possiamo dire che la normazione ha svolto un ruolo importante in questo contesto e come lo ha svolto lungo tutto il periodo del lockdown e tuttora oggi Uni è riuscita a garantire la propria continuità operativa e ad essere di supporto alle imprese per tutto questo periodo ma l'azione maggiore di maggiore rilievo da parte di Uni è stata quella di mettere subito a disposizione del mercato liberamente scaricabili tutte le norme utili per la giustione dell'emergenza Covid in particolare tutte quelle pubblicate che stabiliscono le caratteristiche di qualità e sicurezza quindi come devono essere fatti correttamente i dispositivi medici i dispositivi di protezione individuali necessari in questo periodo parliamo a titolo d'esempio di mascherine camici visiere e così via ha avuto successo secondo te questa iniziativa? beh direi proprio di sì la risposta del mercato è stata veramente straordinaria in pochi mesi sono state scaricate dal nostro sito più di 200.000 copie di norme che hanno aiutato davvero le organizzazioni e che a un certo punto hanno anche contribuito ad aiutare ad una riconversione di alcune organizzazioni nella propria produzione e di venire incontro quindi alle necessità di disporre di dispositivi di protezione che avessero tutte le caratteristiche di qualità ma soprattutto di sicurezza necessarie avete sviluppato anche dei documenti ad hoc? sì certo sono stati pubblicati ad oggi diversi documenti che utili a supportare il mercato e a tutelare il cittadino nell'emergenza covid abbiamo pubblicato grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino per esempio un documento che definisce le caratteristiche di sicurezza per le maschere di comunità quelle mascherine che portiamo tutti noi inoltre grazie alla collaborazione con FIDAE una federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie abbiamo sviluppato una prassi di riferimento sulla didattica a distanza proprio per aiutare le scuole ad organizzarsi al meglio in questo difficile momento è inoltre in fase di elaborazione grazie al lavoro che stiamo svolgendo con l'associazione italiana Wedding Planner un altro documento per definire le misure di contenimento del rischio contagio covid diciamo proprio in occasione di matrimoni ed eventi ad essi collegati e per il settore turismo che è stato tra l'altro particolarmente colpito in questa pandemia per il settore turistico abbiamo sviluppato con Federturismo e le sue diverse associazioni ben sette documenti pensati proprio per dare al comparto delle linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da covid in particolare sono stati definiti gli elementi essenziali per ridurre il rischio del contagio affinché il servizio l'erogazione del servizio possa avvenire in modo sicuro sia per i lavoratori sia per i fornitori che ultimo ma non sicuramente meno importante per i consumatori clienti e fruitori dei diversi servizi turistici inoltre è stata fatta grande attenzione anche al tema della sostenibilità per l'ambiente in particolare stiamo parlando di documenti che trattano specifici contesti quali per esempio quelli degli impianti di risalita delle strutture ricettive turistiche all'area aperta dei parchi di divertimento temporanei o permanenti discoteche e locali di pubblico spettacolo strutture termali e buss turistici ringrazio Elena Mocchio responsabile innovazione e sviluppo di Uni e ricordo nuovamente che tutte le prassi di riferimento sono rese disponibili da Uni liberamente scaricabili dal catalogo del nostro sito internet www.uni.com nel quale potete trovare tutte le informazioni sulle nostre attività vi ringrazio e vi saluto i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione www.uni.com